Da anni sentiamo parlare di come l'innalzamento del livello degli oceani rischi di far scomparire per sempre alcuni territori. In realtà dagli anni Ottanta ad oggi sono nate delle nuove isole, in alcuni casi con estensioni enormi. C'è solo un problema, non si tratta di vere e proprie isole, ma di immensi cumuli di rifiuti. Sono sei in totale le cosiddette isole di plastica che si trovano nei nostri mari. La più estesa si trova nell'Oceano Pacifico e non è altro che un'enorme distesa di rifiuti per un totale di 80.000 tonnellate. Le dimensioni poi sono impressionanti. Le stime più ottimistiche dicono che quest'isola potrebbe avere un'estensione di circa 700.000 km2, per intenderci una superficie pari alla penisola iberica. Le stime più pessimistiche invece dicono che quest'isola potrebbe arrivare a raggiungere addirittura 10 milioni di km2, all'incirca le dimensioni della Cina. Ma come si sono formate queste enormi isole di plastica? Beh, l'accumulo di rifiuti è iniziato soprattutto a partire dagli anni Ottanta ed è una conseguenza diretta dell'inquinamento da parte dell'uomo. A concentrare tutti i rifiuti nella stessa area hanno contribuito poi le correnti oceaniche. Questi vortici infatti creano una zona stazionaria che permette ai rifiuti di aggregarsi tra loro e accumularsi nel corso degli anni. Per quanto riguarda invece la composizione di queste isole di rifiuti, più del 90% è materiale plastico e a pensarci bene non c'è da sorprendersi. Uno studio americano del 2017 è arrivata una conclusione inquietante. Dal 1950 ad oggi sono state prodotte all'incirca 9 miliardi di tonnellate di plastica e di queste circa 7 miliardi non sono più in uso. Bene, di questi 7 miliardi di tonnellate di rifiuti di plastica all'incirca il 9% è stato riciclato, il 12% è stato smaltito negli inceneritori e il restante 79%, vale a dire 5 miliardi e mezzo di tonnellate di plastica, si trova ancora disperso nell'ambiente, sulla terraferma o negli oceani. Questo crea ovviamente una serie di problemi. Anziché biodegradarsi infatti la plastica si fotodegrada, ovvero si disintegra in pezzi sempre più piccoli, in alcuni casi con dimensioni anche inferiori al millimetro. Queste particelle vengono poi ingerite dagli animali che popolano gli oceani, causando un problema ormai noto, l'introduzione della plastica nella catena alimentare. Ma cosa si sta facendo per risolvere il problema? La risposta breve è troppo poco. Ad occuparsi della pulizia degli oceani infatti sono soprattutto ONG e associazioni ambientaliste. L'ultima spedizione del progetto CAI6, per esempio, è partita nell'estate del 2020 e ha portato alla raccolta in due soli giorni di oltre 100 tonnellate di rifiuti. Ripulire la plastica dai mari però non basta. Come per molti altri ambiti che hanno a che fare con il cambiamento climatico, il problema è strutturale. Questo vuol dire che per ripulire davvero i nostri oceani non basterà metterci una pezza, ma essere pronti a cambiare anche radicalmente le nostre abitudini.